ciao ragazzi buongiorno allora vediamo un po di allenare la mente cosa estremamente difficile innanzitutto dobbiamo trovare un angolo un posto tranquillo e riuscire a rimanere veramente molto molto rilassati viotteremo la mano sinistra sotto il tantien traieta sotto l'ombelico la mano destra sopra la lingua andrà attaccata al palato con la punta della lingua dietro gli incisivi questo punto a occhi socchiusi o chiusi se non vi addormentate naturalmente quindi preferibile socchiusi cercheremo a focalizzare un solo pensiero in realtà non ci riusciremo all'inizio arriveranno mille mille pensieri le bollette da pagare l'affitto la spesa la lite col vicino e quindi daremo continuità a questi a questi che noi chiamiamo demoni che in realtà sono è tutto illusorio non è realtà è solamente frutto della nostra mente dunque l'attività vera e propria riuscirà sarebbe quella di riuscire ad avere un solo pensiero oppure un'immagine quindi riuscire a focalizzare un'immagine in un punto al centro della mente e rimanere attaccati ma non troppo a solo quella immagine o solo quel pensiero nel momento in cui ci accorgessimo che arrivano altri pensieri interrompiamo e ripartiamo da capo vi renderete conto provando che è estremamente difficile di una difficoltà di difficoltà estrema chiaro allenare il fisico è molto molto più semplice è facile la mente è tutt'altra cosa bene con questo concluso proviamo e mandatemi il firmatino vediamo cosa succede buona giornata ciao ragazzi grazie a tutti